Io sono lo scienziato che donerà al mondo una grande invenzione, il biopreservativo. Sarebbe biodegradabile, magari perché no, al mais, alla soia, possiamo usare tutti i cereali che vogliamo. E in qualche modo ci aiuterebbe a continuare a svolgere la nostra attività di amore all'aria aperta, sotto i cieli stellati, fra le lucciole, senza inquinare. Niente più rifiuti, così quando vado a camminare in aperta campagna o in spiaggia, non devo più vedere quelle cose orribili per terra. Fastigioso per l'anima e anche per la natura. L'essere umano non si educa in un giorno, quindi dobbiamo andargli incontro. Biopreservativo. Per amarsi in piena natura, in tutta libertà. Beh, così potrei venire a conoscenza di tutti gli eventi nella mia zona. Concerti, spettacoli teatrali e perché no, magari anche negozi naturali che vendono prodotti biologici.